Un Francavilla poco cattivo lascia l'intera posta sul campo della capolista Matelica. Troppi fronzoli per i giallorossi che potevano fare di più contro i marchigiani, apparsi meno brillanti del solito, specie nella prima parte. Francavilla senza Molende e Sanseverino, in tribuna De Costanzo, non al meglio, c'è Paravati nell'undici titolare con Palumbo e Banegas a sostegno di Cruz. In mezzo al campo i due ex Bedin e Dipinto. Mini turnover per il tecnico del Matelica Tiozzo, Santeramo al centro della difesa. Torna Pignat dal primo minuto in mediana, Franchi sull'out sinistro. Pronti via e dopo appena 70 secondi il Francavilla ha il pallone per indirizzare al meglio la gara. Palumbo e Banegas danno un altro saggio della loro intesa, il primo manda in porta il secondo ma Banegas alza la mira di poco. Il Francavilla sciupa ma tiene bene il campo contro un Matelica che non sembra avere il solito ritmo. Nella squadra di Rachini, ben organizzata dal punto di vista tattico, manca però la giusta dose di cattiveria negli ultimi 20 metri, così di occasioni vere e proprie non se ne vedono. Banegas e Palumbo non fanno male dalla distanza. Il Matelica non si vede mai fino al 32esimo, quando la prima azione la squadra di Tiozzo colpisce. Il Villa perde palla, verticalizzazione per Melandri che mette al centro per l'intervento in scivolata sotto misura di Fioretti che gonfia la rete. Matelica in vantaggio 1-0. Il Francavilla risponde con il colpo di testa di Paravati un minuto dopo, mentre al 37esimo l'assistman Melandri, infortunato, lascia il campo a Margarita. Inizio di ripresa con lo stesso cliché, il Francavilla fa la partita e il Matelica agisce di rimessa, ma di grosse palle gol non se ne vedono. Al 14esimo Angelilli svetta sul corner di Losicco, un minuto dopo doppio cambio per Matelica e Francavilla. Rachini in particolare inserisce Sanchez e Mele per Dipinto e Paravati. E subito dopo Samuel Di Renzo sfonda a destra e serve Palumbo, il cui tiro è bloccato da Avella. Un'azione che illude, perché col passare dei minuti il Matelica rendersi pericoloso, mentre Villa sbatte sul muro dei marchigiani. 26esimo Palumbo perde palla, ne nasce un 4 contro 1 per il Matelica. Pignat serve Angelilli che coglie in pieno il palo, poi Pignat in condizione precaria, non riesce a ribadire in rete. 29esimo punizione di Losicco, forse c'è carica su Spataro, ma si gioca e Benedetti conclude sull'esterno della rete. Un minuto dopo Caffiero atterra Bittaie, secondo giallo ed espulsione per il difensore che lascia il Francavilla in 10 uomini. Spataro poi se la cava sulla sventola successiva di Losicco. Al 39esimo Spataro è ancora bravo quando non si fa superare da Dorato che era stato servito da Margarita. In 10 il Villa concede spazio e occasioni, 42esimo Margarita serve Bittaie che scheggia l'incrocio dei pali. E così in pieno recupero il Francavilla ci prova due volte, con Palumbo prima da lontano, poi sul cross di Cicerello, ma Avella è sempre sicuro e dopo 5 minuti di recupero finisce con il Matelica che può mantenere la vetta della classifica mentre il Villa perde e rimanda l'appuntamento con il primo blitz lontano dal Valle Anzucca. Rachini, la sensazione è che nel primo tempo abbiate perso un'opportunità perché stavate mettendo in difficoltà il Matelica, avete avuto l'occasione all'inizio, poi mancata cattiveria, incisività. Sì, negli ultimi metri sicuramente, però penso che dagli altri punti di vista la mia squadra ha interpretato la partita in modo esemplare, abbiamo avuto subito l'occasione per passare in vantaggio e non abbiamo fatto gol, poi succede che sbagli un disimpegno al centrocampo e prendi gol da 1-0. Poi, ripeto, io per me la partita l'abbiamo tenuta sotto controllo per 90 minuti, abbiamo preso qualche ripartenza alla fine in 10, però comunque abbiamo provato fino all'ultimo secondo a pareggiarla e penso che forse alla fine per quello che abbiamo fatto lo meritavamo. Ci vuole più cattiveria perché poi alla fine io vado ad analizzare le sei trasferte fatte e vado a commentare tre sconfitte che secondo me per quello visto in campo non c'erano, però ripeto, dobbiamo migliorare, quindi la colpa è nostra e dobbiamo migliorare su quelle cose in cui sbagliamo, cioè su piccoli errori non tattici, non di reparto, ma errori individuali. Ogni domenica sono qui a ringraziare i miei ragazzi per queste prestazioni, ogni domenica sono qui a ringraziarli per il lavoro settimanale che fanno. I risultati che il Matelica fa o non farà, credetemi, sono schiavi del lavoro. Oggi vi voglio dire una cosa, la partita scorsa non è stata per niente facile a San Giusto dove un primo tempo si è diviso San Giustese, se l'è diviso Matelica, anche sotto l'aspetto del risultato 1-1. Tutta la mia squadra è arrivata a fare 5-5 km, 5-5 km e 8. Milan-Juve quella sera lì non li hanno fatti o li hanno fatti alcuni. Questo determina il fatto che è una squadra che ci crede, che non molla mai, che ha individualità, che può colpire con tante frecce, che ho al mio arco, però se non c'è il lavoro non ci possono essere i risultati. Qui lavorano tutti duro, il Cesena lavorerà duro come noi, è fortissimo. Noi per il momento ci godiamo questo momento.